Continua il lavoro del celebre fumettista terramano Carmine Di Giandomenico per far diventare realtà il progetto di installazione sull'ipogeo di piazza Garibaldi del Goldrec, lo storico robot. Particolare iniziativa che verrà presentata nella serata dei oggi nella sede del comune, se arrivasse l'ok dell'amministrazione d'Alberto si potrebbe partire con l'idea di crowdfunding gestito a livello nazionale e aperto a sponsorizzazione da parti di privati. 180 mila euro il prezzo dell'imponente progetto che è un ibrido tra una struttura architettonica ed un lampione fotovoltaico funzionale. Oggi alla giunta presenteremo il progetto chiamato Goldrec perché la struttura o l'infrastruttura per la cittadinanza rappresenta proprio il personaggio degli anni 70. 2018 e ci sarà questa ennesima presentazione che è una presentazione già stata fatta ad agosto dove mancavano soltanto tre assessori e la maggioranza aveva già provato. Quindi adesso vedremo di sentire completamente tutti perché questo è il desiderio del sindaco e quindi adesso speriamo che venga ripercepito in una giusta maniera. Goldrec è un personaggio che sta ritornando in voga visto che forse tra qualche anno uscirà anche un film dedicato e in più ci sono molti fan che potrebbero venire a trovarci per vederlo. Ma tolto alla struttura del personaggio sarebbe la prima in Europa che possa garantire un servizio cittadino, quali la luminaria, l'effetto di dissuasione, la piazza Garibaldi visto che è inadempiente con la velocità, insomma e in più per la prima volta in assoluto c'è un'applicazione aggiunta di essere elemento scenografico per un palco dove verrà chiusa mezza piazza lasciando la circolazione e la viabilità libera con la possibilità di avere 4.000 presenze per un eventuale concerto, spettacoli, sfilate, teatro, insomma qualsiasi cosa che si possa fare durante l'estate all'aperto. Il progetto potrebbe risolvere il problema delle infiltrazioni in quanto installando l'opera ci sarà l'occasione di togliere lo strato di terra che c'è sopra e vedere effettivamente qual è lo stato dell'arte attualmente. Con l'occasione potremmo togliere appunto la terra e controllare qual è lo stato, eventualmente potremmo rinserire o riparare la guaina che c'è e quindi risolvere alcuni dei problemi di infiltrazioni che ci sono attualmente.